Abbiamo iniziato il nostro cammino presimale, siamo alla prima domenica di Coressimo e la liturgia prevede come itinerario ben cinque domeniche scandite con l'asforto di alcune pagine che dovrebbero aiutarci a rendere questo cammino un cammino che ci aiuta sempre di più a riscoprire, quello che vi dicevo all'inizio della Messa la nostra condizione di figli, figli che nonostante lo smarrimento e le deviazioni hanno dentro il loro cuore il desiderio di ritornare, di riconvertirsi e di imparare alla scuola di Gesù, di rimparare a vivere da figli e il giorno, la notte di Pasqua vorrebbe essere in un certo senso questo ripuntarsi ancora in lui, imparare ancora di più a morire a noi stessi per vivere secondo la legge di Dio imparare a vivere corrispondendo sempre di più all'amore del Padre e queste cinque domeniche prevedono una serie di pagine da ascoltare la prima domenica è la pagina delle tentazioni, Gesù che viene tentato la seconda domenica prevede invece la trasfigurazione del Signore due domeniche che di fatto ci aiutano a fissare lo sguardo su Gesù perché la sua esperienza diventa anche modello anche per noi punto di riferimento, di confronto come Gesù è stato provato anche noi nella misura in cui vogliamo vivere in obbedienza al Padre in risposta a quella nostra vocazione sappiamo che c'è una prova che ci attende, una lotta ma quella lotta prevede o metti nel labio quello di sentirsi trasfigurati dentro perché man mano che impariamo a sapere affrontare la lotta e ci accorgiamo come Dio sta prendendo dimora in noi è quella luce che ci illumina dall'interno e poi la terza domenica ascolteremo la pagina delle Samaritane dove al centro c'è quel pozzo come fonte di acqua un chiaro riferimento a Gesù lui è fonte di acqua di Paterno e la quarta domenica ascolteremo la pagina del cieco nato dove c'è questo cieco che viene guarito da Gesù ritrova la vista anche lì un riferimento a Gesù come colui che ci dà luce colui che illumina la nostra esistenza ci permette di camminare non più nelle tenebre ma adesso nella luce del Signore e l'ultima domenica, la quinta svolgeremo la pagina di Lazzaro Lazzaro, colui che viene amato dal Signore così viene presentato Lazzaro è colui che Gesù ama e questo Lazzaro che va incontro alla morte è Gesù che si china su di lui lo richiama la vita anche lì chiaro riferimento a Gesù come vita nostra, risurrezione nostra e ci apre per noi la pienezza della vita questo litinerario che ci viene proposto in queste cinque domeniche che vogliono costituire un invito a crescere in questa consapevolezza di quello che noi siamo già diventati e che dobbiamo diventare quella figliolanza da vivere sempre più in maniera più intensa e più consapevole e allora sostiamo nella pagina di oggi la pagina delle tentazioni credo che vi abbia ascoltato la proclamazione delle letture e nella sua grande e sapiente pedagogia la liturgia ha accostato a questa pagina del Vangelo di Matteo quella della Genesi il racconto di Adam e Eva questo colore che per la Bibbia sono all'inizio della storia umana quella coppia che il Signore ha impastato a cui ha conferito il suo spirito quel soffio per cui la realtà dell'uomo è una realtà un po' particolare è da una parte questo fango impastato ma dall'altra parte porta dentro di sé questa povertà che lui è un pezzo di crema un po' di argilla impastata eppure questa argilla nella sua povertà porta dentro di sé il respiro di Dio il soffio di Dio lo spirito di Dio è come dire siamo allo stesso tempo povera cosa ma anche cosa divina e la grandezza e la miseria dell'uomo insieme la pagina della Genesi ci diceva come queste creature che escono dalle mani di Dio sono invitate a saper gestire a saper imparare a vivere in corrispondenza del dono che hanno ricevuto ricevere lo spirito di Dio significa ricevere la sua vita ricevere possiamo dire il suo modo di guardare il mondo le cose e Dio ha un solo modo di guardare è quello di amare le sue creature ama in modo profondo e desidera che ogni creatura realizzi la sua vocazione che niente è inutile non c'è una cosa che per lui è inutile ha un valore e deve corrispondere a quello che è il disegno che gli ha consegnato nel chiamarla la vita di fatto gli consegna anche un progetto e questa umanità che è all'inizio della nostra storia viene in un certo punto viene responsabilizzata e il Signore che dona questa coppia questa coppia iniziale dicendo ecco tutto è vostro nelle vostre mani e imparate la custodire imparate la gestirla e sappiamo come va più perché il peccato di Adam e Eva è un peccato di Terì noi siamo Dio noi come dire all'inizio e che poi ci portiamo pieni bisogna dire che di generazione in generazione noi viviamo questo ripetiamo con un'ossessione che è da una parte quasi in senso di dire ma questi che siamo tutti scegli che continuiamo a ripetersi per le stesse cose ma intanto è così intanto è così perché cade un impero e c'era un altro cade un impero e poi c'era un altro è sempre questa voglia di pensarsi come Dio il faraone diceva di essere Dio cioè il seragosto diceva di essere Dio c'è sempre questa grande illusione che noi siamo Dio e che non abbiamo bisogno di riferirci ad altro non abbiamo bisogno di ascoltare altre parole siamo noi che gestiamo e la conclusione del discorso era molto chiara quel giardino diventa un deserto quel giardino lì dove l'uomo è chiamato a sapere vivere in quasi in sincronismo quella realtà a sapere intrecciare relazioni che siano veramente di vita relazioni di umano e di fatto diventa quella realtà un deserto allora ma sempre immaginate quello che è oggi la nostra realtà c'è un deserto ma il deserto è dentro di noi perché man mano che gli avvenimenti si svolgono e noi ci accorgiamo che il nostro cuore si desertifica ci inaleghiamo dalle paure ripeto paure, indifferenze è tutto un esempio di cose che la pagina del Vangelo ci pone davanti Gesù lo mette davanti è lui che si presenta a noi come il figlio che vuole vivere in obbedienza alla volontà del padre il figlio che vuole realizzare in pieno la giustizia di Dio e la giustizia di Dio è una sola che nessuno si perde che nessuno si perde Dio vuole fare giustizia in questo senso perché chi dove l'uomo sta e dove l'uomo butta fuori dicendo ma tu non sei degno di stare con noi lui si china lui è preoccupato preoccupato non delle leggi è preoccupato di ogni creatore umano e Gesù sente di dover vivere questa missione in quanto figlio deve manifestare vuole manifestare questa paternità di Dio questo padre che non intende perdere nessuna creatura nessuna creatura ma ognuno per noi ognuno di noi per il Signore e per il padre è davvero un bene prezioso la Bibbia ha una bella il profeta Esaia dice di Gerusalemme che Dio porta la fotografia di Gerusalemme e poi Gerusalemme significa di noi se la porta sulla mano non si se lo ricorda sempre se per caso ha messo qualche momento che magari si può confondere e se la porta sempre come ricordo ma queste sono le cose che mi interessano e poi Gesù si presenta così nel lo vuole vivere fino in fondo ma questo questo comporta una lotta una lotta con una realtà quella nostra l'umana che invece veraglia per un altro verso e sono le parole del famoso a tre tentazioni dove non mi fermo ve lo affido a voi mi rileggio la casa dove c'è questa voce che dice dice a Gesù e come gli parla dal di dentro dice guarda ma tu vuoi manifestare veramente la paternità di Dio guarda che non c'è altro modo di manifestare la paternità di Dio se non portando al massimo a quello che poi sono le cose che stiamo facendo è vero che la condizione dell'uomo è una condizione dove la fame diventa un problema serio siamo alle prese con quello che poi è il problema di ogni giorno che cosa mangia acqua e come si fa a vivere e guarda non c'è altro modo se non produrre e cercare di incrementare il mercato e cercare di ingrandire a questo mercato Gesù dice ma non è questo non è questo il modo per rispondere alla fame del mondo non è quello di aumentare una produzione smisurata di beni enormi sempre di più sempre cessivi e Gesù dice ma guarda che questo non è il modo di risolvere la fame il modo di risolvere la fame nel quell'asporto del tavolo è alto è imparare a ricevere la creazione intanto come dono e nella misura in cui riceviamo il pane come dono non c'è altro modo altra logica se non quella che poi ogni domenica noi continuiamo a far memoria Gesù presentare lo spezzore lo spezzare condividere questi sono i verbi di Dio questi sono i verbi del padre questo è il disegno questo è il suo modo di concepire come saziare la fame degli uomini gli altri uomini servono soltanto a creare l'illusione che ce la stiamo facendo e invece con tutto si riduce in un deserto in un deserto in un possiamo dire in arredimento degli animi diventiamo sempre più duri stiamo producendo cose enormi ma la ricchezza si restringe nel mare di pochi è il dramma di questi tempi di questi nostri giorni una produzione infinita basta vedere quello che parte dalla città vedere tutti questi containers enormi di qua e di là vanno per tutto il mondo eppure eppure la fame non è risolta eppure noi non siamo più sereni ecco la prima tentazione è tutta su questo e poi Gesù che risponde a questa voce che potrebbe indurlo verso altri modi l'ultima per esempio che gli dice vedi tutti questi regni pigliano tu il potere perché non c'è altro modo di realizzare il sogno di Dio e fare di questo mondo la sua casa la sua famiglia far scendere Dio su questa terra non c'è altro modo se non quello di impossessarsi del potere e costringere tutti a credere che Dio è lui e non c'è solo altro per portare questa è una tentazione nella storia che c'è stata e il nostro Dio è quello è vita nostra e gli altri devono sottostare a noi perché se tu non credi nel mio Dio tu non hai il diritto di vivere e Gesù dice ma questa non è la volontà del padre questo non è il modo di come la volontà del padre è quella non di prendere il potere e di costringere gli altri a poter adorare questo Dio l'unico modo di realizzare la volontà del padre è quello di servire poi Gesù lo dirà ai discepoli il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la vita a chi questo è il segreto della vita questo è il segreto di come vanno affrontate le tentazioni e il piccolo riferimento scusate se no non sono io uno dice vabbè ma queste sono cose in grande questo riguardano quei grandi personaggi che sta in potere ma non certamente noi sì e il nostro piccolo guardate che ci riguarda perché è in vallo la nostra libertà la tentazione la prova non è per gli schiavo chi è schiavo e il padrone dice tu a fare questo e lui lo deve fare non è grave alla libertà di poter me lo faccio non lo faccio non lo devi fare non c'è ok viene costretto ma la prova è per coloro che sono liberi per coloro che possono scegliere immaginate per noi che significa che se è uno che ha inizia aperto un'attività commerciale e viene magari gli amici che gli dicono tu vuoi davvero portare avanti questa tua attività 300 euro al mese li devi consigliare a noi che fare dire di sì o no e capita alcuni di noi che sono senza lavoro ma comunque ci sono sempre i nostri amici che hanno la possibilità di darci un lavoro e che facciamo io devo pur portare qualcosa a casa andrò a lavorare con una vita mafiosa oppure dirò di noi cosa fare guardate queste sono le prove perché mettono in gioco la nostra dignità di cristiano io mi posso stializzare posso chinare la schiena devo anch'io umiliare nel senso tempo poi legarmi perché guardate questi sono i luoghi e poi ognuno di noi della sua casa c'è tutta queste questi piccoli grandi se volete ma che sono grandi per noi sì o no devo dire di sì o devo dire di no ecco Gesù ha saputo dire di no proprio per quell'asporto ma dice la parola di Dio così così è scritto questa è la volontà del padre ecco noi veniamo invitati a partire da questa domenica a riscoprire intanto la nostra dignità di figli una dignità che non può essere svenduta non possiamo chinarci non possiamo chinare la nostra schiena dobbiamo avere il coraggio di stare in piedi però non sempre ce la facciamo e inizia la parezza ma proprio per dire forse forse potevo dire di noi e non lo devo e oggi dico signore perdone non sono non mi sono comportato da figlio ho svilito la mia condizione di figli e vorrei riprendere la mia condizione quella statura dritta guardate che c'è una bella tradizione nella chiesa il padre nostro che è la prediera dei figli non si può dire né in ginocchio e manco seduto in piedi a testa alta e senza cappello perché è la dignità del figlio che sta davanti al padre il padre davanti a Dio il nostro fratello musulmano direbbe ma davanti a Dio bisogna inginocchiarci con la testa per terra devi toccare la terra perché devi umiliare e noi diciamo no perché abbiamo ricevuto la dignità dei figli davanti al padre che si sta a testa alta è la nostra dignità ecco iniziamo il nostro bambino colesimale proprio portando dentro di noi questo desiderio di ritornare a recuperare la nostra bella identità di figli e con Gesù sapere che con lui è possibile questo itinerario lui il figlio in ascolto del padre grazie